Saranno avviati presso i lavori di riqualificazione dell'ex GIL, gioventù italiana dell'Ittorio, all'interno della Villa Comunale di Chieti, da tempo abbandonato e oggetto di atti di vandalismo. Ad annunciarlo l'ex consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, che sottolinea come all'emiciclo sia stato approvato un importante emendamento, a firma del Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che stanzia risorse pari a 200.000 euro necessari per la riqualificazione dell'immobile regionale della Villa Comunale. Sì, tempo fa abbiamo trovato le risorse necessarie, 2.200.000 euro, per fare interventi sulla struttura danneggiata dal sisma 2016. All'interno ci sono migliaia e migliaia di libri, sia della vecchia libreria, sia di diverse donazioni, quindi libri importanti, libri che vanno inventariati, catalogati e messi chiaramente a disposizione quando ci sarà la nuova biblioteca. In più ci sono alcuni laboratori sanitari dove c'è materiale altamente sensibile di soggettà e privacy per cui vanno tolti con cura. Abbiamo lavorato insieme al Presidente Sospiri, insieme all'assessore Quagliere, insieme all'assessore Sant'Angelo, all'assessore della cultura per riperire questi fondi. Alla prima variazione utile il Consiglio regionale è stato bravo a trovare queste risorse e assegnarle alla ristrutturazione della biblioteca. Dal punto di vista storico, un patrimonio dà il valore inestimabile. La struttura venne inaugurata nel 1934 in occasione della Fiera Internazionale dell'Agricoltura, che si tenne a Chieti, diventata scuola nel dopoguerra. Col compianto Giovanni Pace fu restituita la collettività come biblioteca regionale, chiusa infine dal 2015. In questi anni, regno purtroppo del degrado e della devastazione. È una proprietà della regione che purtroppo è stata soggetta ad atti vandalici. Ci siamo impegnati da subito a cercare le risorse necessarie per ridare dignità, un luogo caro ai miei tanti concittadini, utile soprattutto per quella che diventerà la cittadella della cultura all'interno della villa comunale, con la caserma ex buciante e con il polo museale. Quindi riteniamo di aver fatto una cosa utile e necessaria per ridare vitalità alla città. Un'iniziativa che i cittadini attendevano da decenni? Era un'iniziativa dovuta e io ringrazio ancora il Presidente Sospiri, Guaglieri, Sant'Ancio e il Presidente Marsilio per questo intervento necessario alla città. L'auspicio, conclude l'ex consigliere regionale, è quello di realizzare la cittadella della cultura con la fattiva partecipazione dell'Università. L'edificio a suo tempo nacque come sede della gioventù italiana dell'Vittorio, è composto da cinque padiglioni, alcuni dei quali ospitavano l'Agenzia di promozione culturale con annessa biblioteca e uffici sanitari regionali. I lavori di ristrutturazione progettati, una volta avviati, dovrebbero essere portati a termine nell'arco di 12 mesi.